La Sardegna è un'isola che tutto l'anno può offrire un grande patrimonio culturale, naturalistico, storico ed enogastronomico ed è questo lo spirito che anima il Festival del Turismo Itinerante, la cui terza edizione è in programma sorso l'1 e il 2 ottobre. La manifestazione è stata presentata stamattina a Sasseri nella sede della Camera di Commercio. L'evento infatti è inserito tra quelli supportati dal programma di promozione turistica Salude e Tribu. Dal presidente dell'associazione Camperisti Torres, Rosario Musmeci, alla guida della macchina organizzativa e dall'assessore al turismo del comune di Sorso, Federico Basciu. Presenti anche i rappresentanti delle numerose associazioni che collaborano per permettere al Festival di offrire attività estremamente variegate. È una crescita costante, ormai si parla di camperterapia e si lega con la fase difficile legata alla pandemia ma in realtà interpreta il piacere del viaggio. Il format è semplice, noi in un fine settimana facciamo tante cose insieme, cose che si fanno a piedi, a cavallo, in bici, in kayak e inondiamo di opportunità di viaggio e di visita dei luoghi. Sostanzialmente, in buona sostanza, noi dimostriamo che quel luogo, ma devo dire tutti i luoghi nella nostra isola e nel nostro paese sono un poliprodotto dal punto di vista turistico. Quest'anno il focus dell'evento è l'enogastronomia. L'idea è quella di percorrere un sentiero ideale per far conoscere tutte le produzioni alimentari locali e territoriali anche con le varie trasformazioni, con le conoscenze che hanno le nostre mamme e le nostre nonne quindi coinvolgeremo la popolazione a diversi livelli. Da oggi è attivo il sito festivaldelturismoitinerante.com attraverso il quale si può consultare l'intero programma e iscriversi per prenotare le attività. Grazie.